L'assegnazione era prevista oggi, ma in indirizzo politico per la stipula dei contratti di locazione è arrivato solo ieri dall'Aggiunta Comunale di Palazzo San Francesco, che con delibera numero 165 di ieri 5 settembre, pubblicata sull'albo pretorio del Sirio Istituzionale dell'Ente, ha stabilito i cannoni di locazione degli alloggi residenziali, piano secondo e terzo refabbricato del centro polifunzionale, contratto di quartiere della zona PEP, e ha demandato ai settori primo, secondo e quarto, la stipula dei contratti di locazione, l'assegnazione e la consegna degli alloggi in favore degli aventi diritto della graduatoria definitiva del contratto di quartiere, interessati e non rinunciatari. I cannoni, che hanno tenuto con il fiato sospeso gli assegnatari, da determinarsi per abitazioni di superficie fino a 70 metri quadrinetti calpestabili, oscillano da un minimo di 220 euro a un massimo di 340 euro. Si arriva quindi alla fine di una lunga trafila che è iniziata il 26 settembre 2011 con l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro polifunzionale comprendente 64 alloggi per categorie speciali, a seguito di comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 31 gennaio 2013 veniva approvato il progetto esecutivo, si arriva all'era Ranalli e il 14 novembre 2014 venivano affirati gli interventi. Nel 2016 con l'era Cassini arrivò il bando, ma solo per 15 dei 64 alloggi sono state avviate le procedure di affidamento. Per gli altri ci sarà bisogno di un nuovo avviso pubblico dopo l'esclusione delle offerte da parte della Commissione perché non rispondenti ai requisiti. Ma la burocrazia, come viene del resto in tutto il Paese, ha frenato l'entusiasmo. Nove assegnatari hanno rinunciato proprio per le lungaggini. Nei prossimi giorni si procederà alla consegna di soli sei alloggi. Anche l'ultima data indicata, quella del 6 settembre 2019, oggi, non è stata di fatto rispettata. Ma ora è solo una questione di giorni, il tempo di sottoscrivere i contratti e consegnare materialmente le case. Certo non in tempi record, visto che ci sono voluti otto anni. Ed ora si spera che dopo il contratto resti il quartiere, una zona della città che, tra alunni della scuola primaria, guardia di finanza e alloggi, potrebbe avere nuova linfa vitale.